Buon pomeriggio, benvenuti dalla redazione web della città, la nostra seconda edizione di oggi. Cominciamo subito con la viabilità, andando a vedere quali sono le notizie per questa sera e per domani. Vi segnaliamo che oggi e domani in Vianizza 294 all'ingotto fiare ci sarà la manifestazione espositiva affidabilità e tecnologie, aperta oggi fino alle 18, domani dalle 9.30 fino alle 17, quindi ovviamente la circolazione e il parcheggio nella zona ne risentiranno. Questa notte da 1 alle 3 avremo la chiusura del sottopasso di Portapalazzo in corso di Gina Margherita per le consuete operazioni settimanali di pulizia meccanizzata. Abbiamo in manutenzione i semafori di via Guidoreni all'angolo con via Boston. Per quanto riguarda domani, dalla Palagiustizia prosegue il processo Ethernet in corso Vittorio Emanuele 130. A partire dalle ore 8 circa è previsto un notevole afflusso di persone dalle parti del Palazzo di Giustizia. Avremo anche un divieto di transito in via Viterbo tra via Balangero e via Nole per dei lavori edili e in manutenzione domani i semafori di Piazza Cattaneo. Per la viabilità è tutto, noi andiamo a vedere qual è la situazione del tempo in città, una situazione per così dire un po' ingarbugliata in questo pomeriggio perché abbiamo un cielo con qualche nuvola, comunque tutto sommato poco nuvoloso, lo vedete dalla rilevazione dell'Alpa Piemonte sulla nostra home page, circa 20 gradi di temperatura, un'umidità del 43%, le previsioni per le prossime ore sono di cielo poco nuvoloso, però nella notte già inizieremo ad avere una situazione di instabilità portata da alcune correnti che vengono dal nord Europa, le temperature minime saranno in lieve calo, si attesteranno intorno ai 6 gradi. Andiamo a vedere le notizie dal web della città, in particolare vi segnaliamo la notizia relativa ai biglietti omaggio con Informa Giovani che domani mettono in pari o 4 biglietti per il concerto delle pornoriviste che sarà previsto giovedì 9 all'Hiroshima a Monamour, come sapete per partecipare è necessario rispondere velocemente alle domande sul sito dell'Informa Giovani. Andiamo a vedere anche le nostre webcam per dare un'occhiata alla città, cominciando come al solito da Piazza Palazzo di Città, questa è un'inquadratura in questo momento del centro della piazza, vedete alcune persone davanti al Monumento del Conte Verde, questa è una vista invece di Palazzo Madama da Villa Gualino nel sole di questo pomeriggio, ci spostiamo in Piazza Cattaneo, scusate in Piazza Pitagora, questa è la situazione del traffico attualmente tranquilla e poi alla rotonda autostrade nord verso la Torino Milano dove anche qui vedete la situazione è di un traffico tranquillo, alcune auto in uscita dalla città. Bene, allora è il momento di vedere quali sono gli appuntamenti culturali di questa sera, per farlo io vi lascio a Matteo De Simone, l'appuntamento con tutti voi sarà domani mattina, ma Matteo adesso passa la parola per gli appuntamenti di questa sera. Bene, buon pomeriggio, vediamo allora alcuni appuntamenti per la serata di oggi, vi segnaliamo a Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, lo spettacolo Il Tempo delle Susine Verdi di Paolo Endel, cinema, vi segnaliamo la proiezione del film Grace is Gone di James Strauss, al cinema Due Giardini, via Molfancole 62, per finire un appuntamento letterario, vi segnaliamo la presentazione dell'ultimo libro di Luca Novelli intitolato In viaggio con Darwin alla libreria Feltrinelli, libri e musica di piazza CLN. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Mario Parena che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata, vi do appuntamento all'edizione di domattina alle 9 e un quarto, buona serata. Grazie. 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 Grazie.